Le cose che posso dire sono a che punto siamo dopo il lavoro fatto in queste settimane. Chiaramente stiamo cominciando a dare un'idea di gioco alla squadra, stiamo cominciando a dare un discorso di spaziature offensive con una partenza dove svilupperemo poi tanti giochi con diverse situazioni, quindi una partenza comune che poi si sviluppa in diverse situazioni e questo è fatto per avere un primo gruppo di giochi dove sfruttiamo le caratteristiche dei nostri giocatori. È chiaro che il tempo è poco e quindi cerchiamo di fare un lavoro molto più globale, cioè partendo dal 5 contro 5, solamente quando poi riusciremo a stare in campo in maniera decente per 40 minuti, supereremo un po' più il lavoro analitico, però diciamo che la positività fino adesso è questa predisposizione comunque di tutti nell'ascoltare, nel cercare di giocare per la squadra, per trovare un miglior tiro utilizzando un po' l'extrapass e un passaggio in più, una situazione in più per trovare la soluzione migliore. Non abbiamo fatto quasi nulla sotto un punto di vista difensivo, se non dando delle regole e dando un principio difensivo sui piccherò l'unico per tutti che magari non sarà lo stesso per tutto l'anno, visto che Cervi è un po' differente da Pini, da Buva, però in questo momento non possiamo perdere del tempo per mettere a posto due situazioni differenti, lo faremo poi col tempo quando, ripeto, la squadra riuscirà perlomeno a stare in campo in maniera compatta per 40 minuti e un po' più fluida nel gioco. Mi sembra che tutti stiano facendo piano piano dei passi in avanti sulla condizione e cerchiamo di non spingere mai troppo per evitare poi qualche fermo e basta, devo dire che sia parlato che Norcino ci stanno dando una buona mano nella chiusura dei dieci, che Gioia, Guglielmo, Piccarello e tutti quanti questi ragazzi che si sono uniti a noi hanno dato manforte in tutto lo sviluppo di questa preparazione che è partita sicuramente un po' in ritardo e però sta continuando in maniera abbastanza fluida e con obiettivi chiari che noi abbiamo in testa sotto un punto di vista tecnico. Ecco, più o meno questo è un po' il riassunto di quello che stiamo facendo e di dove stiamo andando. Sì, intanto su Martin Lunen, credo come, io non ho letto il comunicato, però credo un po' come sia già uscito qualche mia dichiarazione, sono contento di riabbracciarlo e di riaverlo nella mia squadra perché ha del giocatore, è un ottimo professionista, è un grande professionista, è una persona piena di valori e piena di altruismo, dove lui fa sempre qualche cosa per la squadra e non pensa mai alla propria individualità, cosa che mi sembra che stia al di là delle caratteristiche tecniche diverse, nel senso che non so, Veikala sarà un tiratore, Bruno sarà un tiratore, però credo che sia un po' la caratteristica di questa squadra, anche se ognuno ha diversi pregi da sfruttare e quindi sono contento del fatto che abbiamo chiuso un capitolo, cioè il capitolo della costruzione della squadra, dove io chiaramente mi rendo conto che alla gente, magari anche a voi interessa un po' poco perché si guarda sempre il giorno dopo, però è stato un gran lavoro chiudere questi dieci giocatori, dieci, anzi dodici con Orcino e Parlato, quindi partendo praticamente da zero e quindi aver chiuso un capitolo frutto di grandissimo lavoro di staff, di Nicola, dei due assistenti, mio e di tutti quanti, credo che ci dà adesso un pensiero in meno e possiamo provare a pensare esclusivamente al basket giocato. Cosa possiamo vedere a Scafati? Io sarei contento se ci fosse un'esecuzione di quello che stiamo facendo, visto che abbiamo messo ulteriori giochi d'attacco e non sempre, non così classici come si può magari pensare dove sia un apprendimento immediato e soprattutto che la qualità del gioco possa aumentare un po' di minutaggio, noi abbiamo fatto a mio avviso una buona partita contro il Bamberg per più minuti, primi 13-14 e primi 7-8 del terzo quarto, per un totale di una ventina, poi saranno 22-23, piacerebbe che, non dico arrivassimo a 40 perché so che è impossibile, però che si arrivasse un po' più in là di questo minutaggio. Non siamo stati molto attenti nel dare un po' più di leggerezza ieri e oggi per poter domani essere in campo un po' più brillanti, sinceramente capisco che il risultato poi faccia gola a tutti, però sinceramente noi non possiamo perdere tempo sulla tabella di marcia, l'importante è arrivare, non dico pronti, ma il più possibile pronti per la prima di campionato, quindi tanti calcoli e proprio fisici per arrivare pronti al torneo non li abbiamo fatti, quindi può essere che siamo brillanti 10 minuti, 15, 20, insomma dipende un po' da quello che viene adesso, finché ne hanno in allenamento io continuo ad andare, poi quando proprio non ne hanno più facciamo altri 5 minuti con questa resistenza, poi dopo lasciamo perdere, quindi vediamo che cosa viene fuori a Scafatti, a me piacerebbe già che ci fosse un po' di comprensione del gioco e di esecuzione di quello che stiamo facendo come è stato in Sardegna. Ma sul mercato io credo che è un po' quello che ci siamo detti quando fondamentalmente settimana scorsa abbiamo fatto questa conferenza insieme a Nicola perché Lionel comunque anche se non era ufficiale era era praticamente preso e credo che è un po' quello che ho detto la volta scorsa è stato un mercato molto difficile molto molto lungo molto pesante partendo da zero giocatori con una con una anche un po' sorpresa da parte nostra all'inizio di tanti rifiuti di giocatori che ormai sembravano presi sembravano già nella nostra così alla fine sono venuti giocatori che più hanno voluto venire ad Avellino e con una certa tipo di caratteristiche diceva bene soprattutto Nicola la settimana scorsa che noi non avremo tutte le qualità però quelle che che abbiamo cercato di mettere insieme spero che vengano vengano esaltate durante la stagione e quelle che non abbiamo cercheremo di limitarle si parla chiaramente come era stata la tua domanda la fisicità l'atletismo non atletismo dei lunghi ma vediamo insomma ecco noi sappiamo di non avere quelli che fanno i salti carpiati con doppia piroletta nel fare schiacciata però nello stesso tempo cerchiamo di mettere ecco diciamo che la parola che abbiamo un po voluto seguire con Nicola ed è quella che è un po è stata chiesta dall'ingegnere Decesa è stata chiesta mi sembra anche dalla stampa dal pubblico dalla gente è un discorso di fare una squadra solida cioè una squadra che venga in campo e non ci sia una sorpresa ogni partita di atteggiamento di o di tanto così chissà si giocano oggi o non giocano la scelta di di martin è stato è stata dettata sicuramente la sicurezza però anche da una squadra che ci è sembrata durante la prima settimana di lavoro con come l'avevamo un po pensata con una buona conoscenza di gioco e abbiamo voluto mettere un altro giocatore che si integrasse con una conoscenza di gioco abbastanza particolare cioè non è che aver scelto lui perché erano gli altri che aspettavano la nostra chiamata ecco noi qualche altro certo di no lui però credo che martin rappresenti un po un pensiero un'idea tecnica che noi vogliamo sviluppare che stiamo sviluppando sin da adesso ma lo rappresenta lui ma io credo che per adesso quello che lo sta rappresentando in campo migliore di tutti sia Alex Hacker comunque Cervi e Pini sono due giocatori di scuola Ivan Buva è arrivato a Cantù non dico un anno e mezzo un anno e tre mesi e all'inizio era che ogni pallone che prendeva lo tirava ecco conoscenza del gioco molto bassa dopo un anno di lavoro mi sembra che abbia notevolmente migliorato questa questa caratteristica quindi alla fine una serie di giocatori che possano e la scelta di martin è stata proprio un ulteriore tassello per seguire una via tecnica ecco perché poi molte volte si fanno le squadre e si dicono ma questa squadra cosa manca? manca un po' l'atletismo appena uno che fa i salti ehm si vabbè fa i salti ma ma magari non li fa all'interno del contesto di gioco ecco quello che vogliamo sviluppare e poi ehm comunque insomma rispondendo alla tua domanda sono abbastanza contento di quello che è venuto fuori con tanta fatica e con tanti rifiuti e tante accettazioni sicuramente quelli che sono venuti qua per adesso hanno dato grande dimostrazione di voler venire ad Avellino questo mi sembra una un marchio di fabbrica abbastanza importante una una caratteristica così eh lo dico anche in maniera un po' personale come volevo venire io come ci ho voluto venire Nicola come ci sono voluti venire gli assistenti, i preparatori ecco di avere grande motivazione ad affrontare questa questa sfida allora sicuramente è il ragazzo un po' più spaesato degli altri perché è arrivato, poi è ripartito, poi è nato figlio, poi è ritornato, ore di viaggio fuso orario, in un posto nuovo non ha mai giocato ecco per quanto riguarda poi sai tutta la settimana sono tra allenamenti che è martinino che ho di giovedì ecco per cui riguardo questi tra allenamenti qui mi è sembrato che a livello prettamente tecnico non disprezzi minimamente l'uso del passaggio anzi mi sembra che anche lui faccia parte di questa categoria poi dopo se lui diventerà quello che un po' in gergo viene chiamato il go to guy la prima punta siamo ben contenti ecco noi non abbiamo niente basta che ci sia sempre questa un po' idea che stiamo sviluppando col tempo di cercare sempre il tiro migliore per la squadra ecco vediamo quanto lui riuscirà a stare in campo a livello di condizioni che mi sembra quello un po' più affaticato e quindi questa cosa un po' delle due partite in due giorni io vedevo lì in Sardegna la prima partita è stata discreta ma di tutte le formazioni e non solo la nostra è stata discreta la seconda ora che si sono attivati ecco sembrava come io oggi mi sono messo a fare una corsetta ecco mi sembrava sembrava passo dopo passo piano piano di rimettersi un po' la seconda partita è stata un po' così vediamo insomma lo ripeto sono tornei dove sappiamo che domani verrà un po' di gente Ravellino tutto quello che è però noi abbiamo una linea ben precisa dove avendo con così poco tempo non si può guardare in faccia le partite non si può guardare in faccia ad altre cose quindi vedremo quello che viene fuori no allora del perché della difficoltà diciamo intanto che il piccolo centrale è il movimento più usato mi sembra da tutti quanti poi alla fine come la come la forchi la giri la ribalti poi alla fine si può sempre giocare il piccolo centrale c'è tanta fisicità in questi europei mi sembra soprattutto un girone italiano con tanti centimetri tanta forza e c'è qualche giocatore un po' più bravo soprattutto nei lunghi in difesa su questo movimento qualcun altro un po' meno però anche una bravura maggiore mi sembra che con l'uso dei 24 secondi e l'uso dei 3 punti ogni anno che passa c'è sempre più bravura in queste letture e in questo modo per far canestro tirando anche da posizioni molto distanti mi aspettavo il cammino dell'Italia sì sono stati molto bravi sono stati molto bravi a vincere la partita che contava noi italiani abbiamo sempre un po' una caratteristica che quando siamo un po' con le spalle al muro poi dopo tiriamo fuori sempre meglio di noi e diciamo che quando la difficoltà è maggiore la situazione aggregante viene un po' meglio l'individualismo lo mettiamo un po' da parte se la difficoltà è sempre più grande di quello che pensiamo riusciamo ad unirci di più sono stati bravi è stata brava tutta la squadra al di là di qualche individualismo come Gallinari nella sua continuità come Bellinelli Barniani però è stata brava dico anche tutta la panchina che ha dato sempre grande energia gli ha dato minutaggi Simone si è affidato a giocatori importanti quando doveva vincere la partita faceva una selezione abbastanza gerarchica abbastanza chiara e alla fine l'hanno ripagato ecco mi spiace molto per Gigi è un ragazzo a cui sono affezionato veramente in maniera notevole con lui abbiamo fatto un quarto posto in Turchia e abbiamo fatto una medaglia di bronzo a Nova Goriza con l'Under 20 e poi sono rimasto molto affezionato a livello umano come d'altronde quasi tutti i ragazzi che sono passati l'Under 20 a fatti europei quindi siamo lì poi dopo sarebbero miglia considerazione da fare invece che oggi le facevo con il mio assistente tecnico Maria sul discorso insomma siamo in un periodo molto difficile in Italia per la canestro i settori giovanili sono arrancano diciamo e poi nonostante questo abbiamo forse la nazionale io non dico la più forte di tutti i tempi perché la più forte di tutti i tempi poi dipende sempre con chi ti relazioni contro perché dopo tu giochi contro la Spagna al completo è una Spagna di tutti i tempi anche quella quindi però nonostante questo storio giovanile qua abbiamo forse la squadra più talentuosa di tutti i tempi sia a livello fisico atletico che tecnico e tattico e quindi insomma io ho l'Under 20 da tantissimi anni il momento in cui la Lega e tutte le società si rendono conto che produrre giocatori italiani alla fine fa abbassare il costo del mercato perché più numero di italiani produciamo più si abbassano i costi dei giocatori più c'è movimento più spettatori vengono a vedere più allenatori si creano più allenatori si formano più tifosi vengono appassionati e magari non per fare atti incivili ma per il gusto di piacere al palacanestro più il nostro movimento può rinascere e questa è la considerazione che vedevo perché sembra che andiamo contro tendenza che dice facciamo meno stagiovanili e vengono fuori giocatori più forti io penso che tanti stranieri qua di alta qualità abbiano fatto in modo che venissero fuori questi giocatori perché la complicità si alzava molto quindi hanno aiutato a venire fuori adesso che il campionato noi non siamo più il primo campionato il secondo campionato dell'Europa dove in America quando li mandavano il primo posto di mandare era in Italia dove il livello si sta abbassando forse adesso è il momento di spingere ancora un po' più sulla creazione dei giocatori italiani proprio per fare un campionato ancora più bello poi di solito quando sono le grandi crisi vengono sempre fuori tante idee nuove ecco forse adesso sta arrivando questo momento e lo spero io penso di essere ancora giovane a livello anagrafico però forse sono un po' vecchio a livello di allenatore di Serie A perché inizio è stata la mia sedicesima stagione da capo allenatore è stato uno dei allenatori più giovani di tutti per prendere la Serie A però lo spero soprattutto per per i miei colleghi più giovani così hanno la possibilità di poter fare professionismo di poter diventare e fare un iter come l'ho fatto io che sono stato il responsabile di questa regione di Cantù ho allenato i cadetti i nostri allievi ho vinto tratto i giovanili tratto fuori qualche giocatore ecco perché se no alla fine fine ogni anno si ricostruisce una squadra da zero invece io credo che anche la gente del luogo sia importante io credo che siano importanti che Lorenzo Gioias sia allenato con noi che è importante che che Fabio Guglielmo e Piccarello e questi ragazzi e Norcino e Parlato tengono botta tutto il tempo io penso che a me è una squadra 4-5-6 giocatori del proprio posto se ci si mette un po' di buzzo buono alla fine fine non è così difficile a creare poi se sei fortunato come è stato fortunato dal futuro Bologna a 10 metri da palazzetta nasce Bellinelli che tira da metà campo e fa canestro carpiato però intanto tu hai messo una base solida di giocatori italiani non c'entrava niente con la domanda ma visto che ne parlavo con Maria prima quando sono venuto qua così ho voluto dire la mia cazzata quotidiana così almeno siamo sapete per lo meno il mio pensiero ecco e credo che e spero vivamente che la nazionale al di là che non diciamo lo speriamo di andare più avanti possibile che sia trainante anche per questi per tanti ragazzi adesso ci hanno l'iPad l'iPod i messaggi il corso d'inglese asiatico e chi più ne metta poi alla fine fine se diamo una boccia in mano si divertono lo stesso a tirargli una pedata o a tirargli in un canestro ecco quindi secondo me può essere trainante per tutto il movimento anche un buon risultato alla nazionale soprattutto se la vendiamo bene ed è seguita da tutti quanti